I 3.007, 1.618 fanno tamponi. Quindi non era proprio un'eresia pensare che si potesse fare un bel accordo e un bel percorso con i medici di base. A dimostrarlo del resto sono i numeri con 2.319 test giornalieri effettuati, dato che sconta di vari anche importanti da provincia a provincia, come si vede dalla tabella. A Belluno per esempio l'adesione è del 9%, a Padova dell'83%. Treviso al 28% significa che meno di 3 medici di base su 10 nella marca effettuano tamponi. A livello regionale il dato si attesta sul 53,8%. L'obiettivo dichiarato comunque è arrivare ad un allineamento. Certo nel medio periodo non si riuscirà più a garantire la remunerazione patuita a livello nazionale proprio con i medici di base. Noi abbiamo già stanziato un paio di milioni di euro per dare altri 100.000 tamponi ai nostri medici di base, per riuscire ad esaurire almeno questa fase fino a dicembre. Dopodiché vi dico in tutta sincerità noi non abbiamo forza per andare avanti a 18 euro tampone, lo sanno già, troveremo un altro accordo. L'altra partita ancora aperta sempre sul fronte dei tamponi è quella con veterinari e dentisti. Anche qui si attende una mossa da parte del governo chiamato dall'altra parte a riprendere in mano il tema dei ristori che per Zaia va scollegato dal dibattito attorno alle fasce. Il tema del colore non c'entra nulla con il danno che comunque si subisce. E questo mentre lo stesso governatore a rilevare come l'indice R con T in Veneto stia calando un messaggio non tanto velato al CTS, indispensabile però guardare anche al futuro prossimo e quindi al vaccino anti-covid. Bisogna essere pronti con le siringhe quando serviranno perché se sono due dosi sono due siringhe, due aghi, due botuffoli di bottone, cioè è un casino. Una partita quella del vaccino che non sarà solo interna ma anche e soprattutto internazionale. Avremo il passaporto sanitario, vedrete che finirà così. Perché oggi ti chiedono il test, domani ti chiederanno il vaccino. Apriti cielo, Zaia ha introdotto il passaporto sanitario. Ma fate quello che volete, vedrete che andrà a finire così. Perché ci chiederanno se sei vaccinato o no.